Chissà 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 in se modo che vorrà il colore altri ragazzi di sedi, non c'è chi viene a camminare del nostro, non c'è chi occorre, ma ora, davvero che noi stacono a vissi stari posti, non c'è che non c'è chi è, guarda, 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 sono di sol, guarda, 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 guarda. Guarda. C'è il mondo? E' quello che senti? C'è il mondo? Chi è il mondo, prendo una volta con un'azienda. L'azienda è chiusa, un'azienda è di dolore, chi è stato rimasto ai bani? C'è un'azienda? Ma, come l'avar? Ci sono un'azienda con un'azienda che è trillato solo per tutti i più non per tutti i più Sì. Sì. Live in translator, sempre care ne falou in corre. Non c'è Runitzato di oz связzo via e la linea. gebautne, tutto è tutto Reich. Non lo so che sia la pausa da pubblica. Non c'è la situazione più grande di diccire, anche da mente, guarde una brevezza. mpi In serve un Americans di spettare un pollo, Sì. 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 Ma cosa significa che è l'escritto? E' vero che ci sono stati. E' un'escritto. 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 Sì. C'è stato un po' di più che stagione. Ma avete visto che il suo vero e vero. E' bello che conosciamo Frideri, in cui è visto che Frideri vissi rinforzano in Božia. Ma non so anche Gesù, ma non so anche gli ucci, non so anche gli ucci. Sì, vediamo, che si è bene ascolti l'Evangelio. ma che le persone sgrOLCHI nel secondo campo dove si riuscili qui diventano poi è stato detto perché le persone si ma che si ho il che n'imano niente vera. Lo è stato fatto bene, e anche i nostri genitori. Sono soni di, metti, ma che con le nostre strumentali e anche tutti i i i dimenti che si rivolgono in modo da vivere in una vita e vissi. E quindi i i dimenti. Grazie.